bella raga bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale questo video è un video per avvisarvi e ringraziarvi di varie cose allora iniziare subito con ringraziare gli abbonati che mi stanno supportando ragazzi grazie mille perché voi non immaginate per me quanto è importante questo supporto e sono anche felice appunto di fare determinate cose per agevolarvi la vita su gta ragazzi e giocare tutti quanti assieme creare una bella famiglia quindi ragazzi partirei con ringraziare federico morandi ragazzi abbonato livello 3 io partirei poi con vita ragazzi grazie bro livello 1 partirei subito dopo con sono un piccione raga anche lui livello 1 grazie andre e poi partirai con una persona molto fondamentale nell'ultimo anno grazie mille gricks della tua collaborazione per me è stata veramente fondamentale nell'ultimo anno collaborare con te ragazzi voglio anche ringraziare abru scusami il nome abruzelle livello 3 ragazzi anche lui e poi non possiamo mancare con red moon grazie mille bro perché tu sei veramente una persona speciale sei veramente una di quelle persone che nel mondo ce n'è poche magari il mondo fosse più come persone come te quindi ragazzi a questo punto vi voglio informare di una cosa come ben sapete chi si abbona avrà degli agevolamenti che nei prossimi giorni andrò a spiegare bene vi elenco il tutto ci saranno dei giorni prestabiliti durante il mese dove andremo fare determinate cose e sarà sempre così come come ben sapete io sono di xbox raga e quindi chi è di ps4 o ps5 lo prende nel dado no raga la cosa cambierà perché a metà mese o a circa fine mese la cosa è sicura al 100% deve solo arrivare ragazzi arriverà a casa di savix una ps4 raga quindi da quel giorno saremo attivi anche su ps4 quindi chi si vuole abbonare avrà gli stessi agevolamenti potrà giocare con me potrà clippare con me da ps4 ragazzi e con questa chicca io vi saluto vi ringrazio di nuovo del sostegno ringrazio chi mi segue e alla prossima svadabam svadabam iscriviti al canale